Mattarella a Napoli per i 70 anni della Nato, l'alleanza atlantica rappresenta per l'Italia una pietra angolare della politica di sicurezza, lo ha detto il capo dello Stato intervenendo alla celebrazione al Lago Patria, ha sottolineato l'impegno dell'Italia per l'evacuazione in Afghanistan. Vaccini in campagna via la terza dose, l'Asla Napoli 1 ha fornito il nuovo calendario, dal 20 settembre partono le somministrazioni senza prenotazione per chi rientra nei requisiti, sprint anche grazie all'obbligo del Green Pass che per il presidente De Luca va anticipato al primo ottobre. Garavaglia in Irpinia, il turismo è ripartito, il ministro ha tenuto a battesimo la fondazione Sistema Irpinia voluta dalla provincia per rilanciare il settore del turismo. Qui un modello virtuoso da imitare ma per la campagna è stato un anno di forte ripresa. Napoli dissesto evitato, rivincita di De Magistris, il bilancio del comune passa all'ultima seduta, scongiurati problemi finanziari per il futuro. L'era dell'XPM è stata la più longeva della storia a Palazzo San Giacomo, dieci anni totalmente dedicati alla città, dice il sindaco. Sagno vigorito rilancia, ora servono i progetti, all'assemblea dei soci di Confindustria Benevento il presidente indica la strada per la ripresa dello sviluppo. Il arrivo risorse importanti, ora tocca agli imprenditori mettere in campo le idee per il territorio. Salerno verso il voto è guerra di sondaggi, dopo la lite tra Elisabetta Barone e il PD Michele Sardo esulta per i dati della Tecne e spiega, con senso in crescita sarò io a sfidare Enzo Napoli al ballottaggio. Intanto in città arriva il ministro Franceschini. E questi erano i titoli di oggi ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura il presidente Mattarella a Napoli per i 70 anni della Nato in Italia. Rafforzare la difesa dell'Unione Europea significa rafforzare anche l'Alleanza Atlantica. Vediamo. L'Alleanza Atlantica rappresenta per l'Italia una pietra angolare della politica di sicurezza, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla celebrazione del settantesimo anniversario della Nato in Italia, alla base di Lago Patria. L'impegno della Repubblica Italiana si esprime anche in molteplici missioni che la vedono forte contributore, con circa 1340 militari impegnati in nuove operazioni, con attiva partecipazione anche all'attività sul fianco nord ed est dell'Alleanza, con una Unione Europea che intende contribuire in modo efficace alla stabilità e all'affermazione dei principi dello Stato di diritto. Il capo dello Stato è arrivato poco dopo le 11 presso il comando JFC Naples di Lago Patria ad accoglierlo l'Inno di Mameli. Al suo arrivo ha deposto una corona d'oro sul monumento ai caduti della Nato. Con Mattarella hanno partecipato alla cerimonia il vice segretario Nato Mircea Gheohane, il ministro della difesa Lorenzo Guerini, l'ammiraglio Robert Burke, comandante del comando interforze alleato di Napoli e comandante delle forze navali americane in Europa e Africa. Dal capo dello Stato anche un passaggio sull'Afghanistan. Quanto è avvenuto recentemente in Afghanistan ha scosso profondamente la comunità internazionale e fa comprendere quanto sia importante la riflessione in atto in ambito Nato per un'alleanza militarmente forte e al contempo politicamente sempre più efficace. Mentre Mattarella parlava, una tiepida protesta andava in scena all'esterno della base d'atto. I manifestanti hanno sventolato una bandiera della Palestina e sposto anche uno striscione firmato da poteri al popolo giuliano sul quale campeggiava la scritta lavoro, servizi e risanamento ambientale. No, basi militari. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato a Malaga Gaetano Angrisano, 29enne napoletano, ritenuto affiliato al clan Vinella Grassi. L'uomo dovrà scontare 11 anni di reclusione per associazioni di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. A Grisano è stato individuato a Malaga grazie a un'articolata indagine condotta nei mesi scorsi dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli sotto il coordinamento della DDA. Ora è in carcere in attesa dell'estradizione. E' un bimbo di 4 anni è precipitato dal balcone ed è morto sul colpo la tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Foria, Napoli. Sul posto anche la polizia che sta lavorando per ricostruire la dinamica della disgrazia. In campagna intanto si accelera con la campagna vaccinale al via le terze dosi. L'Asl Napoli 1 ha fornito il nuovo calendario. Sentiamo Sara Botte. Nuovo sprint vaccinale in campagna dove si parte con le terze dosi. L'Asl Napoli 1 ha riorganizzato il calendario per le inoculazioni perché rientrano i requisiti. Dal prossimo 20 settembre si ci potrà presentare senza prenotazione dal lunedì alla domenica alla mostra ad oltremare, alla fagianeria Real Bosco di Capodimonte, dal lunedì al venerdì alla stazione marittima e ai distretti sanitari di base, il venerdì al centro vaccinale Isola di Capri. Un'ulteriore accelerata sarà data poi dall'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. La decisione del Governo è stata commentata così dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, oggi a Napoli per un incontro elettorale a sostegno di Manfredi. Rendere il Green Pass necessario, obbligatorio per tutta una serie di attività e di luoghi è assolutamente fondamentale perché spinge a vaccinarsi. Spinge in modo civile ma è assolutamente fondamentale perché vaccinarsi non è soltanto per se stessi ma è soprattutto per gli altri. D'accordo con la linea del Governo anche il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca. Siamo ultra d'accordo. La Regione Campania ha espresso la sua opinione qualche minuto fa nell'incontro con il Ministro Gelmini. Abbiamo detto che siamo d'accordo e anzi proponiamo che questa misura sia anticipata dal 15 ottobre al 1 ottobre. Avendo preso una volta tanto una misura di prevenzione seria, facciamola fino in fondo. Tragedia a Grazzanise nel Casertano dove per un incidente stradale ha perso la vita un diciannovenne. Stando alle prime ricostruzioni il giovane, forse anche a causa dell'asfalto sconnesso, ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un palo. Su quella stessa strada fu assassinato anni fa il padre della vittima a colpi d'arma da fuoco. Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, ospite della Fondazione Sistema Irpini ad Avellino, ha analizzato lo stato del settore in campagna a bilancio positivo. Ora bisogna puntare a migliorare la qualità dei servizi. Rossella Strianese. Stiamo recuperando attrattività, ma c'è ancora la necessità di far tornare i turisti stranieri. Non mancano i segnali positivi, ma adesso bisogna mettere le basi per una crescita solida. Il sistema Irpini è sicuramente un modello per mettere in rete le risorse, soprattutto nelle aree interne. Decolla dopo quasi un anno di lavoro il progetto voluto dal Presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi, che mette in rete il patrimonio culturale e paesaggistico delle aree interne. Ospite d'onore, il Ministro del Turismo Garavaglia. Le prospettive sono molto interessanti e importanti. Abbiamo visto la crescita che ha avuto in questi due anni, l'anno scorso e anche quest'anno, il turismo cosiddetto esperienziale all'aria aperta. Ecco qui le potenziali sono veramente pazzesche. Pensiamo solo al treno storico. Si è chiuso il secondo anno, la seconda estate in pandemia, qual è il bilancio? Allora, è molto positivo. Non abbiamo ancora i dati definitivi, ci arrivano lunedì e quindi lì avremo un quadro certificato, però ci sono tante regioni che hanno addirittura superato i dati del 2019. E sul Green Pass esteso, nessun freno, ha detto il Ministro della Lega. Quindi il senso è di non chiudere più. Esattamente questo. Noi non vogliamo chiudere più nulla. Da Sistema Irpinia a Sistema Campagna, l'assessore al turismo della Giunta De Luca, Felice Casucci, rilancia il progetto su base regionale. Le altre province hanno manifestato grande interesse a questo modello, in particolar modo le province che hanno forti caratterizzazioni sulle aree interne e quindi proveremo a capire come sul piano turismo 2022 Sistema Irpinia possa essere un punto di riferimento. Per il Presidente Biancardi un sogno che si avvera è un'occasione di sviluppo anche occupazionale per la sua terra. La strada è questa qui, non ce n'è un'altra. Quindi tra l'IAB e la piattaforma e il centro redazionale ci vogliono più di 1200 persone che lavorano. Il bilancio del Comune di Napoli passa all'ultima seduta del Consiglio Comunale. De Magistris si congeda, evitando il dissesto, ricordi belli e brutti. in dieci anni totalmente dedicati alla città. Vediamo. Approvato il bilancio nell'ultima seduta consigliare dell'era De Magistris, il Comune di Napoli evita il dissesto grazie all'opposizione che ha assicurato il numero legale. Il Sindaco parla della sua amministrazione come di quella più longeva dall'Ottocento, ma aggiunge quella sedia scotta. Mi auguro che il mio successore possa operare libero e senza condizionamenti. Oggi mi sento di ringraziare i consiglieri comunali, tanto di maggioranza quanto di opposizione, perché hanno avuto un ruolo alto nell'interesse della città e dei napoletani. Non è un bilancio con cui si possono fare strumentalizzazioni pulite, è un bilancio corretto, così come abbiamo governato con queste mani pulite tra mille difficoltà. Poi De Magistris si concede ai cronisti, i miei sono stati dieci anni totalmente dedicati alla città. Il momento storico, credo, più rilevante della città, tolto le elezioni, è stato il Sindaco di strada. Credo che quello rimane nella storia mia personale della città e della politica di strada. Questa parte finale, insomma, tra pandemia e problemi vari, è stata una fine davvero dura, però abbiamo retto bene. Ma ci sono anche pagine che si vorrebbero cancellare, errori che il Sindaco, tornando indietro, non rifarebbe. La partecipazione alle elezioni politiche del 2013, un momento in cui forse è stato il più difficile della nostra amministrazione partecipare a quell'esperienza politica. Fu un errore perché fu percepita come una distrazione, quindi tornando indietro non lo rifarebbe. Ora per lui la sfida in Calabria e l'esperienza di Dema Napoli che prova a continuare con Alessandra Clemente, a cui lascia il testimone. L'economia, partecipazione, condivisione e progetti per lo sviluppo del sannio. Ieri al Castello di Limatola, l'Assemblea Generale dei Socii di Confindustria Benevento, con il Presidente Oreste Vigorito. Noi sentiamo Ima Tedesco. Il nostro compito è quello di immaginare il futuro e prepararlo giorno dopo giorno. Così il Presidente Oreste Vigorito all'Assemblea dei Socii di Confindustria Benevento. L'incontro nella splendida cornice del Castello di Limatola, la presenza del leader regionale degli industriali campani, Luigi Trettino e di numerose istituzioni del territorio. Un percorso che guarda le sfide per il futuro, partendo dalla partecipazione e dalla condivisione delle iniziative da mettere in campo per lo sviluppo del sannio. Un'assemblea importante, non tanto per quello che poco si è potuto fare nei primi sei mesi, ma per avere la conferma che questa parola, partecipazione, che io ho messo al centro del programma, è una parola recepita e che sarà una ripartenza vera. Dal palco allestito nella storica dimora della provincia sanita, il Presidente Vigorito ribadisce l'importanza della partecipazione, incassa ancora una volta il sostegno unanime dei presenti ed evidenzie temi su cui puntare a partire dalla solidarietà. Confindustria non è un'elite, una classe che chiude ai problemi sociali, ma è un servizio che può dare una mano anche alla città e questo servizio ci ha consentito di avere il riconoscimento di essere stata la prima città, la prima Confindustria in Italia a realizzare un hub vaccinale e a fare questo tipo di lavoro. E poi ancora attenzione rivolta ai giovani affinché non debbano più andare via, quindi ai servizi, alla green economy, ma anche alla viabilità e alla digitalizzazione. Dobbiamo oggi fare la nostra parte perché un territorio, un'industria cresce sul territorio se cresce anche il territorio. E questo è un sannio che lavora a ritmo serrato, così il Presidente di Confindustria Campania Luigi Trettino che in occasione dell'Assemblea a Limatola ha evidenziato il gran lavoro svolto dal gruppo Sanita per lo sviluppo del territorio. Vediamo. È un sannio che lavora, un sannio che si dà da fare, ritmo serratissimo. Luigi Trettino, Presidente di Confindustria Campania, a margine dell'Assemblea degli Industriali Saniti a Limatola evidenzia il lavoro svolto dall'Associazione Nel Sannio. C'è una bella leadership, c'è una bellissima squadra. Questa assemblea ha potuto assistere al vero spirito, diciamo, imprenditoriale di Confindustria in cui vengono fatte le proposte. Non vengono scritti soltanto dei titoli, ma vengono declinate le proposte in una prospettiva di sviluppo del territorio non soltanto locale, ma anche regionale. Un percorso di sviluppo che dovrà partire dalle potenzialità del territorio. Bisogna procedere così come è partita questa territoriale, individuando qual è la vocazione di questo territorio, ma all'interno di una regione che ha diverse caratteristiche, all'interno della quale alcune specificità sono detenute esclusivamente da questa provincia, dal sannio. Attenzione per le aree interne, ribadita anche dall'assessore regionale al turismo, Felice Casucci. Dobbiamo lavorare insieme, le aree interne hanno una potenzialità di sviluppo che può dare una risposta a quel grande risultato sul turismo, lo dico, che ha avuto la regione Campania nei mesi di luglio e agosto, è stata la prima regione d'Italia. E dal delegato alla Napoli Bari, Fernando Enrico, l'impegno a lavorare in sinergia per la ripartenza. Stiamo lavorando e qualche obiettivo, anche in tempi rapidi lo abbiamo fatto. Certo, bisogna lavorare ancora in maniera più importante, più sinergica, con le istituzioni, gli enti locali, con gli imprenditori. Noi dobbiamo dare risposte in termini concreti a quelli che sono i bisogni del lavoro. Elezioni amministrative a Salerno e guerra di sondaggi dopo la lite tra la Barone e il PD. Michele Sarno sottolinea i risultati della rilevazione Tecne e spiega Il mio consenso in crescita sarò io a sfidare Napoli al ballottaggio. Vediamo. Si fanno sempre più aspri i toni della campagna elettorale a Salerno e tra gli schieramenti monta la polemica sui sondaggi. Ieri botta in risposta tra Elisabetta Barone e il segretario provinciale del PD Enzo Luciano. Oggi in una conferenza stampa convocata presso la sede del comitato elettorale il candidato sindaco Michele Sarno rivendica i numeri dell'istituto Tecne che lo vedono in ascesa e quale spidante di Enzo Napoli al ballottaggio. Ritengo che questo sia un sondaggio attendibile nel quale riportano un dato sostanziale. Si va al ballottaggio e il ballottaggio è tra il sindaco uscente Enzo Napoli e Michele Sarno. In tempi non sospetti ho detto, se veramente vogliamo essere credibili con i cittadini ho detto che qualora non dovessi arrivare io al ballottaggio non avrei alcuna remora a sostenere il candidato sindaco che va al ballottaggio che è alternativo a questo sistema. Sino ad oggi per quanto riguarda tutti gli altri candidati non ho sentito una parola sul punto. Ma l'aspirante primo cittadino contesta anche l'acquisizione milionaria da parte di Salerno Energia Vendite della New Co Sidiren SRL a pochi giorni dal voto. Un incorporo tra società dove una delle due società vale oltre 32 milioni di euro e questa è una cosa veramente strana, anomala e che secondo me viola il principio normativo sotto il profilo amministrativo previsto dalla norma. Intanto dopo la visita delle due capigruppo di Camera e Senato Serracchiani e Malpezzi un altro big del PD è atteso a Salerno. Il ministro della Cultura Dario Franceschini farà una passeggiata in centro per poi incontrare il maestro Daniel Loren e il personale del Teatro Verdi. Ho pronto un dossier per avviare una serie di interrogazioni parlamentari. L'ex leader irpino della Lega, Savino Morano, coinvolto in un'inchiesta della DDA e poi escluso dal processo, parla alla stampa dell'incubo che ha vissuto. Sentiamo Paola Iandola. Non ha atteso le motivazioni della sentenza ma ha voluto comunque incontrare la stampa insieme ai suoi legali Alessandro Didi e Elisabetta Cucciniello collegati dallo studio romano. Una vicenda giudiziaria che ha scosso l'ex leader della Lega, Savino Morano, pronto a ripartire con tante iniziative. Tra queste quella di una serie di interrogazioni parlamentari. Rispetto a tutta una serie di episodi accaduti ci siamo preoccupati di preparare un memoriale che sarà presto oggetto di una o più interrogazioni parlamentari per chiedere ai ministri competenti una piccola verifica rispetto ad alcune situazioni. questa vicenda non è solo la mia vicenda personale ma è la vicenda di un ambiente politico umano che è stato ingiustamente vilipeso in ordine a una vicenda che non aveva alcun motivo d'essere al punto che il giudice Gup di Napoli ha ritenuto non opportuno iniziare il processo perché evidentemente mancavano gli elementi minimi per iniziare questo procedimento. Rispetto a tutta questa vicenda e ad altre che sono accadute in questa provincia sinceramente ci sono una serie di situazioni che non riguardano l'aspetto giudiziario che come si è visto poi si chiarisce nei tribunali ma riguardano una serie di aspetti collaterali che purtroppo, devo dire la verità, hanno più ombre che luci. Torniamo sul Covid, andiamo nel sannio a un protocollo per garantire la sicurezza ma anche il momento della nascita. L'ospedale Sampio rilancia l'appello ai vaccini anche per le gestanti. Maria Teresa De Lucia Le donne in gravidanza potrebbero avere un rischio maggiore allo sviluppo di patologie gravi correlate al Covid. Prevenire e affrontare le difficoltà, il punto al centro della giornata nazionale per la sicurezza delle cure della persona assistita, celebrata all'ospedale Sampio dove è stato presentato il nuovo percorso di accompagnamento al parto in epoca Covid. Abbiamo raggiunto dei traguardi importanti nella lotta al Covid. Basta pensare che abbiamo vaccinato qui da noi oltre 2.800 persone. Non poteva mancare in questo percorso anche una particolare attenzione riguardo alle gravide e alle gravidanze difficili. E dal direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Francesco Cocca, all'annuncio di un open day vaccinale dedicato alle donne in gravidanza. Oggi è accertato ed è consigliato vivamente da parte di tutte le società scientifiche coinvolte l'effettuazione del vaccino Covid nella donna gravida perché purtroppo la donna che si infetta durante la gravidanza ha un rischio molto più alto di avere complicanze. Infine dal direttore generale Mario Ferrante l'invito a sottoporsi ai vaccini. Oscilliamo una volta 12, 13, 14, chi entra e chi esce. C'è la necessità di chiudere questo gap dei non vaccinati. Se i non vaccinati non diventano vaccinati c'è sempre il rischio che possano ammalarsi come la percentuale molto alta dei ricoverati specialmente quelli che vanno in terapia intensiva. In Irpinia si torna a morire di Covid, un decesso all'ospedale Moscati e primi alunni positivi nel capoluogo. Simonetta Ieffariello. Si torna a morire di Covid in Irpinia. Era vaccinato ma presentava serie comorbilità l'82enne di Monteforte Irpino spirato ieri nel reparto di malattie infettive del Moscati. Reparto che presto sarà intitolato a Mario Maiocca il medico morto di Covid in forze al Moscati. Intanto è incubo contagi nelle scuole, due gli alunni positivi del colletta ma fortunatamente in isolamento da giorni prima dell'avvio delle attività scolastiche. Voglio confermare che a scuola non abbiamo nessun caso accertato di Covid e non abbiamo nessuna classe in quarantena. Ci auguriamo di poter continuare in questo modo e anche in situazioni di sicurezza che quest'anno la priorità è la didattica in presenza. E alla Palatucci intanto parte nel segno della sicurezza il nuovo anno. Sono più di 400 studenti e vengono gestiti con ingressi sfalsati. Noi abbiamo individuato dei percorsi e dato un colore al percorso per dare indicazione immediata al bambino di quale praticamente percorso seguire. Già praticamente ieri è andato tutto perfettamente. E da oggi via gli open day dedicati alle donne incinte o in allattamento. è molto buona la risposta delle future mamme. A parte delle pazienti che erano venute già decise alla vaccinazione siamo riusciti a convincerne altre che erano molto più titubanti e che hanno chiesto spiegazioni e poi alla fine hanno accettato il vaccino. E domenica e lunedì vaccini alle future mamme anche al Moscati. La scuola a Salerno è ripartita in sicurezza e con un'elevatissima percentuale di vaccinati dalla prossima settimana partiranno anche le terze dosi. Filippo Notario. I contagi registrati tra i minori che hanno frequentato l'oratorio dei Salesiani a Salerno hanno fatto suonare un piccolo campanello d'allarme. Ma per l'asla di Salerno la situazione resta sotto controllo e la ripresa delle lezioni in presenza è avvenuta in massima sicurezza. L'anno scolastico è iniziato bene perché abbiamo una buona copertura vaccinale nei professori abbiamo raggiunto il 60% della copertura vaccinale nei ragazzi siamo ormai a 60.000 ragazzi che hanno fatto almeno una prima dose le nostre iniziative mirate sulle scuole stanno completando la vaccinazione di questi ragazzi. Ma la campagna vaccinale prosegue a ritmo spedito l'asla ha attivato alcuni centri nelle scuole che avevano già ospitato le somministrazioni dei docenti ad oggi è stato vaccinato ben oltre l'80% della popolazione vaccinabile e mancano 30.000 persone per raggiungere il 75% della popolazione generale a breve inoltre si partirà anche con la terza dose per ultra fragili e over 80 dell'RSA. Noi partiremo su questo sicuramente dalle dialesi recuperiamo con l'esperienza precedente in cui noi abbiamo fatto i vaccinati idealizzati direttamente nelle strutture la vera terza dose, chiamiamola così, che è quella che si fa dopo sei mesi inizieremo a farla agli ospiti dell'RSA e agli ultraottantenni questa è una precisa indicazione della regione campagna ci muoveremo in questo senso già dalla settimana prossima incomincieremo a rifare vaccinazioni negli ospiti dell'RSA e programmeremo più in là anche vaccinazioni agli ultraottantenni. In chiusura torniamo a Benevento partire dalle periferie per essere certi che si arrivi al centro urbano con questo intento la diocese e una parrocchia hanno affidato ai fedeli il compito di indicare i punti cardine per la costruzione di una nuova chiesa. Fallarino Il progetto per una nuova chiesa che parte dalla base ovvero dai fedeli che attraverso un questionario e degli incontri hanno espresso il loro parere e fatto emergere le loro esigenze a Benevento per la costruzione di una nuova chiesa della parrocchia dello Spirito Santo che conta oltre 5.000 fedeli presentata la relazione finale tante le persone che hanno assistito alla presentazione alla quale hanno partecipato l'arcivescovo di Benevento Felicia Crocca, Don Valerio Pennasso dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI il parroco Don Maurizio Sperandeo e l'ingegnere che ha curato la raccolta dei dati Marco Riso Porre al centro i fedeli, l'imito dell'arcivescovo Il discorso che la chiesa universale, la chiesa italiana sta avviando di fare sinodo di camminare insieme verso un obiettivo comune in fondo qui si sta realizzando concretamente in specifico in questa situazione Un metodo sempre più utilizzato nelle parrocchie di tutta Italia La necessità delle persone non soltanto di un luogo di culto non soltanto di un centro parrocchiale nel quale ritrovarsi ma anche la necessità di comprendere e di fornire informazioni a quelli che saranno i progettisti per dire queste sono le nostre necessità partire dal popolo, partire dalla gente dalle sue necessità perché non soltanto siano coinvolte al termine nella rifinitura di un progetto Ed è tutto per questa edizione Grazie regia Adaldo Fenizia Vi lascio alle previsioni del tempo poi il Tg Sport Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti